Anche questo teatro continua il suo percorso con buon successo, possiamo dire. Sì, è il secondo anno e dobbiamo dire sì con grande successo perché oltre ad essere aumentati i nostri famosi abbonati, cioè quindi il pubblico che ci sostiene dal 2016, abbiamo anche aumentato la proposta, quindi sono arrivati artisti di rilievo nazionale e internazionale, premi UBU che comunque hanno arricchito la nostra stagione anche per quest'anno. Stiamo cercando di crescere, cercando di toccare anche vari e altri elementi legati alla cultura, quindi ci stiamo proprio cercando di formare come impresa culturale capace di poter toccare appunto vari ambiti e poter anche vivere con la cultura. Chiudiamo in bellezza con due date, sabato 24 e domenica 25 con lo spettacolo Primi passi sulla luna di Andrea Cosentino, spettacolo prodotto dalla compagnia Aldes, dell'attore comico e drammaturgo romano, che porterà uno spettacolo assolutamente sui generis rispetto a quelli che abbiamo ospitato perché prendendo spunto dal quarantennale dell'allunaggio, dello sbarco sulla luna, nasce una serie di personaggi assurdi e improbabili ai quali fa da filo conduttore la comunicità sferzante di quest'attore romano. In un luogo assolutamente storico, che caratterizza storicamente Mondavi, noi abbiamo portato una ventata di contemporaneità con una rassegna che si basa sul teatro odierno. Nelle altre stanze ci saranno, nella stanza delle primizie, il laboratorio Linfa di Montemarciano e Piero Livi nella sua mostra Ruota di Storie ripercorrerà tutto il percorso di quest'anno. Importante da sottolineare sarà la gluppa teatrale, ovvero domenica dopo lo spettacolo, celebreremo e brinderemo assieme a quest'anno di cui siamo stati tutti i protagonisti fondamentalmente. Info dove e come? Allora, il Teatro Apollo si trova in piazza della Rovere numero 7 a Mondavio, potete seguirci sulle pagine Facebook Teatro Apollo Asini Bardasci oppure su Twitter e Instagram alla pagina sempre Asini Bardasci.